Ciao scusa, ho 15 euro e ho voglia di cibo argentino, che mi fai a mangiare? Ti faccio mangiare, bere, dolce e resto. Oh! Mangiati questo e dopo ti do dolce. Mezzaluna, carne e spezie argentine. Mmm, bella gonfia. Pancetta affumicata, prugna e mozzarella. Oh, pila! Ma puga. Cioriso e birretta. Questo è il tuo dolce, il sorbetto di Lecce e il tuo euro del resto. Vabbè, chiudiamo da Cimiciurri a Bologna con questo loro sorbetto argentino, praticamente, raga. 15 euro, anzi 14, spesi al top.